Buonasera, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog. Oggi parliamo di un argomento che molti mi chiedono di affrontare. Il mio cane abbaia gli altri cani. Partiamo subito smontando un luogo comune. Non è corretto classificare il cane aggressivo perché abbaia ad un altro cane quando è al guinzaglio. Prima di etichettarlo dobbiamo indagare sul motivo che spinge il nostro cane a comportarsi così. I motivi possono essere molti, ma vediamo quelli più comuni. Il guinzaglio blocca la comunicazione naturale del cane. Il proprietario ha paura delle interazioni al guinzaglio e trasmette la sua ansia con le tensioni sullo stesso. Potrebbe essere un problema dovuto alla mancata socializzazione, ma l'abbaio si mostrerebbe anche con altri comportamenti. In un video non si possono dare soluzioni al problema perché si dovrebbe fare un'analisi accurata della situazione e pianificare gli interventi di riabilitazione. Però posso darvi delle istruzioni su ciò che andrebbe fatto per evitare queste situazioni. Partiamo dal fatto che comunemente il proprietario si accorge dell'abbaio verso un altro cane sotto stimolo, cioè quando i due cani sono naso contro naso. Dobbiamo stare molto attenti ai comportamenti del nostro cane, soprattutto quando siamo in passeggiata, perché il cane comunica anche quando è al guinzaglio. Il nostro cane nonostante sia legato comunica comunque usando le distanze per approcciarsi agli altri cani. Questo denota il fatto che se il nostro cane avesse fastidio verso un altro cane ce lo direbbe molti metri prima, anche cento. È opportuno quindi mostrare attenzione al corpo del nostro cane. Quando il nostro cane ne vede un altro il suo corpo comincia a comunicare. concentriamoci sulla coda. Quando incrocia un altro cane la coda comincia ad alzarsi con angolazioni sempre più ampie fino ad arrivare esattamente in linea con la schiena. Questo movimento comporta un tempo all'interno del quale noi possiamo intervenire per evitare che il nostro cane abbaia ad un altro cane e soprattutto potremmo gestire la situazione in tranquillità. Quando notiamo che il cane incrocia a distanza un altro cane senza tirare guinzaglio lo chiamiamo noi con un gesto o un verso e cambiamo direzione facendo una curva molto larga per poi riprendere la nostra camminata. Questo consentirà di poter camminare con tranquillità mantenendo sotto controllo il nostro cane di non incorrere in gestione difficoltosa. Preciso che questa dinamica non risolverà il problema nell'immediato perché dovreste farvi seguire da un esperto per migliorare la situazione ma sicuramente diminuirà la difficoltà nell'incroci con gli altri cani. Io spero molto che questo video vi sarà utile nella gestione con il vostro cane.